Ci speravo perché ci speravo ovviamente, però era inaspettata perché il mondiale era quasi finito, mancava una partita e era improbabile. Comunque è stato qualcosa di fantastico. Sicuramente ci speravo più che me ne aspettavo, però non in questo momento, non la Coppa del Mondo. Pensavo un po' più in là, magari lavorando ancora un po' di più, però è arrivata questa opportunità e la prendo al volo. Sicuramente Calvisano è stata importantissima perché mi ha dato tanto, Massimo mi ha dato tantissimo a livello di gioco, mi ha fatto giocare tanto e sono riuscito anche a conquistare l'NVP. Comunque anche le zebbre appena arrivato subito, comunque il passaggio è importante perché anche se il top 12 è un ottimo livello, le zebbre è qualcosa di molto di più. Dopo aver fatto la preparazione e tutto mi sono inventato bene, ho iniziato a giocare, ho fatto anche la prima titolare e sono abbastanza contento. Sicuramente è il sogno di tutti, era anche il mio, però non pensavo un esordio così alla Coppa del Mondo contro gli All Blacks e niente, ho tante emozioni e non so come spiegartele. Grazie 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 Grazie